La squadra di OKK è presente in tutta la Svizzera. I nostri uffici si trovano qui nella magnifica Lugano, a Lankwart e a Winterthur. In totale siamo in 450 persone a lavorare ogni giorno per fornire ai nostri clienti e alle nostre clienti il miglior servizio possibile. Collaboriamo in sede, o naturalmente da casa con il telelavoro, o in viaggio grazie agli strumenti informatici. Possiamo contare su una moderna infrastruttura informatica che ci garantisce questa flessibilità. Scusi. Mi sentite? Mi a OKK voglio innovare, migliorare e sempre qualcosa di nuovo. Io posso sempre a un progetto di un progetto, anche sui miei team o di mei partecipi. Kulturelle Unterschiede gehören zu unseren Stärken. Man begegnet sich auf Augehöhe e con Respekt. Man versteht, was le persone che facendo e cosa a loro lavoro è importante. È іs Tonight, il tuo migliorare è il professionale studenti veranfattatore. Voi incontri d'ottor in un progetto di un progetto di打fà certo. È un demotipo di un progetto di un progetto di un progetto della scuola ed amdita. In questa situazione è un progetto di lavorare in una partecipiente. È, ok? Late per la situazione. Grazie a tutti.